Ho chiesto al Santa Brenda della ragazzina, Annie. E le monache mi hanno detto che non è là. Voglio comprare Five Points. Che Dio benedica le vostre buone azioni, Mr. Aberforth. Il medaglione. Hai rubato tu il medaglione di Ellen. Quale medaglione? Mio padre vuole acquistare tutto Five Points. E? Voglio ostacolare. Sto cercando un detective di nome Corcoran. Annie vi ha detto che voleva fare la prostituta. In quanto suo padre è mio dovere riportarla sulla retta via. Ecco i cento dollari. La nostra vita dipende dalla nostra abilità. La chiesa metodista di Mother Zion. E lei pagata solo 90.000 dollari, no?